I sei giorni di riapertura del sito di Sardone, decisa dalla provincia di Salerno per concedere una boccata d'ossigeno allo stile di Battipaglia e quindi ai comuni del Salernitano, stanno per terminare. Domani l'impianto tornerà a chiudere i battenti, sebbene sullo sfondo non ci siano novità. L'atteso decreto del governo, richiesto da Cirielli, oltre che dal governatore Caldoro e dal sindaco di Salerno De Luca, per autorizzare il trasferimento dei rifiuti fuori regione, superando il blocco dei Tarra, non è ancora arrivato a causa del veto della Lega. Domani quindi la situazione potrebbe precipitare, con il rischio che la prossima settimana i rifiuti possano restare in strada anche nei centri più grandi. Una paralisi del governo che ha spinto il presidente della provincia Cirielli, deputato del centrodestra, a minacciare l'abbandono del PDL. Passerò al gruppo misto e ovviamente poi valuterò tutto il resto, mi sembra molto chiaro. Io sono una persona di destra, sono nazionalista, sto nel PDL perché ritengo che sia meglio dell'altra parte politica, ma questo non significa che io posso far venire prima una fedeltà al partito e poi una fedeltà al territorio. Io sono fedele innanzitutto alla mia gente. Non è una provocazione, io non faccio né minacce né provocazioni, io dico quello che penso. Ovviamente se il governo abbandona la mia terra, io abbandono il governo, mi sembra una cosa giusta e logica. Onestamente è inammissibile che la provincia di Salerno, che è la quarta in Italia per raccolta differenziata, che ha deciso di ospitare il termologizzatore, che ha ospitato ben tre discariche consumate da Napoli, che è una provincia efficiente, che non è certamente quella che può essere additata da nessuno, men che meno dalla Lega, come un esempio di spreco o di inefficienza, debba avere i rifiuti in mezzo alla strada per colpa di un governo che non decide ricattato dalla Lega. Questa polemica, tanto per fare la polemica contro i meridionali, è inaccettabile. I tempi comunque sono stretti, domani dovrebbe chiudere Sardone, insomma, dopo questa apertura temporanea. È evidente che, insomma, il mio dato di ultimatum al governo e al mio partito è collegato a quella scadenza. Io ho aperto per sei giorni Sardone su pressione della regione Campania, su pressione del governo che aveva garantito questo decreto. Oggi ci troviamo con i rifiuti in mezzo alla strada, tra qualche giorno ci troveremo con i rifiuti in mezzo alla strada, senza alcuna responsabilità che nessuno ci può imputare, onestamente, né come enti locali, né come popolazione. È ovviamente chiaro che in questo caso deve intervenire il governo. Noi abbiamo dato tanto a Napoli, alla Campania, al governo in questi anni e ora che il governo si facciano sentire vicino alla provincia di Salerno.